si è conclusa la serata di stories we dance che è l'appuntamento conclusivo di fuori formato la rassegna di danza videodanza e performance che quest'anno è arrivata la seconda edizione e questa sera finalmente dopo due giorni di attesa abbiamo potuto vedere i film in concorso sono 12 film da nove nazioni differenti sono film che credo abbiano impegnato la giuria in molte riflessioni una giuria varia composta da personalità di diverso di diverso settore di diverse competenze molto eterogene in una riflessione complessa su quello per fortuna unanime poi nel risultato su quello che è l'universo della videodanza tra tutti i film vista anche l'eterogeneità della giuria abbiamo comunque siamo comunque riusciti a premiare quattro film abbiamo dato le menzioni a quattro film differenti ma il premio come miglior film andata all'unanimità a body language zone perché è quello che comunque riusciva a rappresentare tutti i campi di lavoro a partire dal dal concetto di cui del quale mi occupo io piuttosto che della performance dalla regia molto interessante lavorare come giurati a questo festival perché comunque siamo 4 persone che vengono da background completamente differenti e comunque anche di età molto differenti e quindi ognuno ha visto e cercato in ogni lavoro quello che appunto è il suo campo artistico lavorativo è stato interessante confrontarci tra noi giurati perché comunque ogni film era visto in maniera diversa da tutti e quattro mi sono piacevolmente fatta coinvolgere in questo progetto perché è stata un'occasione per poter incontrare un linguaggio quello della videodanza che è molto distante insomma io milito nel campo dello spettacolo dal vivo e quindi è stato molto bello interrogarsi e confrontarsi con persone che arrivano da differenti contesti artistici e vedere come la danza viene tradotta attraverso lo sguardo della telecamera della fotografia dell'immagine ho visto tanti film interessanti molto interessanti qua a Genova ho trovato tanti cari colleghi internazionali è anche una bella occasione di parlare con film con temi della branche della cultura di videodanza